Arriva il ventitresimo turno di Serie A e la Fiorentina si prepara ad un fine settimana particolare. I Viola, infatti, dopo aver affrontato mercoledì sera il recupero della diciannovesima giornata di campionato contro il Pescara, non scenderanno in campo questo fine settimana. Il prossimo impegno in campionato per la squadra di Sosa cadrà nella data di martedì 7 febbraio e vedrà i Viola affrontare la Roma. All'andata, la squadra di Paolo Sosa vinse il match contro la squadra di Spalletti con un 1-0 firmato da Milan Badel. Una vittoria che per certi versi sorprese in positivo vista la forza della Roma. Una Roma che i Viola dovranno provare a battere anche nel girone di ritorno, sebbene stavolta i giallorossi avranno dalla loro il fattore campo. La Fiorentina, nella sua rincorsa alle posizioni europee, però non si può permettere passi falsi e anzi dovrà provare a replicare quanto fatto dalla Sampdoria la scorsa giornata di campionato, quando i blucerchiati hanno battuto 3-2 dei giallorossi, reduci da quattro successi consecutivi in campionato. La Fiorentina, in casa della Roma, certo non può vantare una tradizione estremamente positiva, avendo vinto solamente in 16 occasioni su 83 confronti romani. L'ultima volta che Roma e Fiorentina si sono incontrate all'Olimpico, ovvero nello scorso campionato, il 4 marzo 2016, furono propri capitolini ad imporsi 4-1 e avvendicare le eliminazioni da Coppa Italia e Europa League arrivate per mano della Fiorentina nella stagione 2014-2015. Se la tradizione romana della Fiorentina non è tra le migliori, Paolo Sosa potrà comunque consolarsi con la possibilità di schierare Astori e Bernardeschi, assenti per squalifica nell'ultimo match giocato a Pescara. Il portoghese potrebbe inoltre recuperare dal primo minuto Nicola Kalinic e Federico Chiesa, giocatori che potranno dare qualcosa in più alla Fiorentina. I Viola, strappando tre punti alla Roma, potrebbero portarsi a quota 40 in classifica e, in caso di risultati favorevoli, agganciare anche quella Lazio, che attualmente quinta è la prima delle squadre in zona europea. La Fiorentina ha tutte le qualità per lottare sempre per la Cempio. Io ne sono convintissimo di questo. Perché la Fiorentina ha un ambiente così appassionato, così unito, e così di grandi tradizioni del settore giovanile e di società, che rappresenta Firenze. Ma Firenze è conosciuta nel mondo dal nord a sud, dall'Artica all'Antartico. Per cui non capisco perché si debba sempre pensare in piccolo. In questa città dobbiamo pensare in grande. La Fiorentina ha tutte le qualità per poter giocarsi sempre un posto di Cempio. Non capisco perché lo debba fare l'Atletico Madrid e non la Fiorentina. Io me lo auguro che ci siano stati accoglienti, ci siano stati dove si possa stare veramente bene e godersi un bello spettacolo. Però il problema resta sempre il bello spettacolo. Cioè, ricordatevi che prima di tutto viene il momento tecnico. Cioè, noi dobbiamo produrre buon calcio. Allora le persone sono attirate perché vanno a vedere un buono spettacolo. E per fare buon calcio ci devono essere che i protagonisti che sono sul campo siano buoni giocatori. Non si risolve il problema tecnico con lo Stadio Nuovo. Questo sia chiaro. Non è che dice, ora ci sarà lo Stadio Nuovo, si gioca tutti bene e tutti verranno contenti e felici. No, il problema resta sempre prioritario, quello tecnico. Bisogna presentare buoni giocatori che fanno buon calcio. Preferibilmente tanti giocatori che vengono dal settore giovanile. Lo dimostra oggi la Fiorentina che ha tre ragazzi di grande valore che sono Chiesa, Babacar e Bernardeschi. Questi tre giocatori che vengono dal settore giovanile hanno il senso dell'appartenenza. Sono buoni giocatori, hanno dei sentimenti assolutamente positivi verso la società e per cui daranno sempre qualcosa in più. Se noi riusciamo a far passare questo trend culturale, che è stato il grande dramma di questi ultimi 10-15 anni, dove si pensava di comprare all'estero e fare grandi affari. Non si fa così. Il calcio si fa tramite, facendo grandi settori giovanili. Solo così non si fanno debiti e si fanno dei buoni spettacoli. Grazie a tutti.